Ah che bella festa qui veramente, cioè guardate come corrono le giadri qua Non sanno che tra poco ci sarà un'epica battaglia dove soltanto una persona sopravviverà Salve bella gente qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Arma 3 Hunger Games E oggi sono qui con un leggendario compagno di squadra È ritornato il grandissimo cinese che mi ha accompagnato nelle avventure di Altis Life E oggi siamo qui per dominare il campo di battaglia assieme Guardate siamo qui nell'aereo, tutte queste persone veramente, tra poco ci sarà il massacro come al solito Te dove sei? A sinistra vicino al portellone, contro il muretto Forse sei quello alla mia sinistra, hai un cappello arancione in testa Non lo so Comunque mi stai guardando per caso Sento soddizio Eh forse si Comunque ecco che ci siamo paracaduttati, ora siamo le giadri per aria Dobbiamo trovare un punto dove andare insieme Perché quest'Hunger Games sarà praticamente giocata in cooperativa Oh mamma mia Dobbiamo aprire il paracadute al momento giusto Comunque all'inizio troviamoci armi per conto nostro Poi mettiamo un marchio nella mappa e ci incontriamo assieme, ok? Io sono vicino ad una torre Ok, oh mamma dovevo aprire il paracadute Ok forse ci sono Comunque guardate finalmente arma 3 con questa grafica È un altro gioco devo dire È veramente un altro gioco Ok Sto per raggiungere una zona di atterraggio lì in fondo Te dov'è che sei? Sei ancora per aria? Sì però sto per arrivare a un punto Ok Comunque io sono giù e non sono morto, sono vivo, sono vivo Mi sono fatto un po' male forse Non so però l'importante è che sono ancora in vita Ok 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 io vado verso le due torri Vado verso quelle due torri Dovrei trovare un modo per curarmi Io dovrò trovare dei kit di cura Sto abbastanza messo male Non sono atterrato proprio bene Sono atterrato di testa sulla terra Ok io intanto sono vicino vedo un attimo se ci si va Io ho trovato un tizio con una macchina C'è un tizio con una macchina lì in fondo E sta venendo verso la mia direzione Speriamo che non mi abbia scoperto Spostati No aspetta Io mi nascondo qua in mezzo agli alberi Non voglio che mi scopra proprio adesso Ok allora c'è una torre su lì Sì sì anche io provo ad andare verso la torre che sto vedendo E spero che non ci sia nessuno Ma purtroppo le torri vengono subito depredate Sono la prima cosa che in queste Hunger Games vengono toccate Ok eccomi qui sulla torre Adesso speriamo soltanto che non ci sia un tizio qui sopra Ma qualcosa mi dice che questa torre è già stata compromessa Hanno già preso tutto quello che c'era Ma tutto Ah no aspetta c'è ancora qualcosa che non hanno preso Dei vestiti Vabbè intanto mi prendo il vestito Così sembra un po' più potente Ho un vestito da ufficiale io No eccolo 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 il primo Ma dove mi sono nascosto Oh mamma mia che esplosioni sono lì Oh sentite anch'io un'esplosione Stanno bombardando la zona qui vicino a me Basta basta bombardare Basta Per favore sono un povero ufficiale in pensione Basta guerra Questo è il bello di Hunger Games su Arama Kilometri e chilometri a piedi senza una macchina Per fortuna Indy Ora ha trovato la macchina della nostra salvezza E potremo andare in giro a scorazzare e a uccidere persone Ok io sto per parcheggiare qua vicino Io ti aspetto qui in mezzo alle frasche Come un cecchino appollaiato Che sto attento che non ci sia nessuno qui intorno Ti avverto eh se arriva qualcuno Ma da qui è una buona visuale Per ora non vedo nessuno Forse però ti stanno preparando un agguato Stai attento Indy Ok io sono io sono lì Ok io no Sei tu quello con la macchina Sì sei tu Sì Portami via di qui Portami via di qui Ok aspetta 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 Prima dobbiamo andare a vedere se ci sono armi dentro lì Ne dubito fortemente ma andiamo a cercare Ok ma sta attento che non ti fregano la macchina Vabbè speriamo bene Dai ti seguo Proteggimi Dalle porte aperte sembra che questo posto sia stato completamente svaliggiato Ah Però se c'è qualcuno che si nasconde qui dentro e lo uccidi posso prendermi le sue armi Guarda c'è già un incadavere magari non l'hanno neanche preso Infatti Allora vado un attimo a toccarlo tu coprimi Perché tu sei quello che Cadavere deprediamolo Ha un gps Che ce l'ho già ovviamente Però ha un casco migliore Ok ora con questo casco ho un po' di più protezione sulla testa E là c'è un altro cadavere in mezzo alle stanze Stai attento Stai attento Controlla ogni stanza Aspetta che chiudo la porta dietro di noi È meglio Ogni stanza proprio come gli SWAT Vesta e sinistra Qui dentro non c'è nessuno Perfetto Comunque questo è uno zainetto Aspetta che glielo prendo Aveva degli occhiali bellissimi Un pack e uno zaino Senza niente però Niente Ok controlla quella stanza lì Poi dopo vedi che è l'unica stanza in cui cerca di avere questo C'è un zaino un po' migliore Oh 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 vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua c'è un'arma Siiii finalmente Abbiamo la mia arma E anche munizioni Si 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 Ed è anche fatto Basta mi metto gli occhiali dal viatore e inizio a fare tipo Grison Dai Indy, non vedo l'ora Non vedo l'ora Ah, comunque mi cambio tutta Questa è più mimetica Aspetta, mi metto questa È più bella Vedi che più fortuna di così si muore Sì, mamma mia, ora sì Aspetta, vado un attimo a controllare nel piano di sopra Stai attento, no? Io controllo sempre qui sotto Che non ci sia nessuno E dicevo, magari un giorno Organizziamo una partita con gli iscritti Ho trovato anche un binocolo Così posso vedere da lontano Ok, tanto binocolo io ce l'ho Vai, vai Ok, possiamo andare verso la macchina Corri, 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 corri E ora i nostri eroi Presero loro fuoristrada Per andare verso un campo Troveranno dei nemici lì? Non si sa Ma l'importante è che siamo sopravvissuti all'inizio Sarà bruttissimo poi affrontarsi io e te, né? Eh, alla fine, ragazzi Quello sarà Dovremmo ucciderci Sarà un combattimento Ragazzi miei, l'amicizia non conta molto su questo qua Puoi farti l'amicizia per un po' Ma poi quando sono morti tutti Stai attento Credo che il tuo compagno potrebbe Affettarti mille pezzettine Comunque guida proprio perfettamente Con i guanti di velluto Perché Ti ho appena detto Perché è l'unico auto che abbiamo E non voglio fare 10.000 km a piedi C'è una macchina? Potrei prendere anche questa Potrei prenderla io Aspetta Questa qua la piglio io Così andiamo in giro in due E così non la lasciamo Ok, abbiamo due macchine Il convoglio Comunque la campagna mi ha insegnato una cosa In questa mappa Dobbiamo metterci sopra una collina E guardare le cose col binocolo Così è meglio Figli da T Credo B Sì Guardiamo un po' la situazione Da qui Sopra la torre non c'è nessuno C'è un'altra torre lì in fondo Ok, vado verso la torre io E anche là non vedo nessuno Aspetta, aspetta Non andare senza che io ti possa coprire Dobbiamo fare le cose fatte bene Ok, tu vai E io ti copro Abbiamo deciso che era meglio Tornare alle nostre macchine Perché lì Era una zona un po' pericolosa E non abbiamo trovato nessuno Dai, guarda l'altro positivo Nessuno è arrivato neanche a rubarci le macchine Vabbè, tra poco l'airstation mic Si dovrà svuotare No, mi hanno sparato Oh, oh Copri, mi copri, mi copri, mi copri Copri, mi sto sparando Non ho capito dove sei Sono al centro Proprio al centro Mi sta sparando Sto venendo verso di te Acchio, fermo Merda Dove sono? Merda Merda Che tensione Dov'è? Non lo vedo Dov'è quel maledetto? Ci siamo messi abbastanza in trappola Oh Io cerco di stanarlo magari con la macchina Si ma mi sa tantissimo che era Oh, oh, dov'è? Ok, ho visto dove arriva Ho visto dove arriva lo sparo Ti ha ucciso? Si Merda Allora, io mi sono mosso Stavo venendo verso la tua macchina Quindi è dietro la mia Stai attento perché è verso la mia Ok, mi nascondo io Oh, merda Ok, ho visto dov'è Finalmente l'ho preso Mi ha preso Porca put... Camperare Era camperare Ma io non posso accettare di perdere così E allora Allora, ciao Ok È stato un atterraggio buono Sembra Gli altri devono ancora atterrare Forse sono anche il primo che è riuscito ad atterrare Oh no, alcune persone però Sono molto vicine al punto in cui voglio andare Se non ci sbrighiamo Saranno loro le prime Ecco Quello ha tirato proprio sopra il tetto Ma questo mi... Ah, è caduto È caduto Che bello, che bello, che bello Mi piace come è iniziata Oh no, c'è già qualcuno qui? Speriamo di no Allora Oh, ha trovato già la mia prima arma Bene Prendiamocela in fretta Però sento qualcuno qui Oh, mi ha visto Mi ha visto quello No, merda Ok, ora ho l'arma carica Ora sì Mi dispiace Prima mi avete ucciso Ora non più Dentro quale di queste stanze si è messo lui? Ah Sicuramente È andato a cercarsi qualche arma Merda Tanto mi cambio vestito Eccolo qui Oh Non tentavi di scappare da Gabby Mi dispiace ma ti ho giustiziato Guardate come mi guarda Perché lo hai fatto Gabby? Eh, mi dispiace Ma è la dura legge di sopravvivere Abbiamo già visto prima Ma come Oh Ok Uno è un altro qui che tenta di scappare Oh, mi dispiace per te Ma Ti ho visto Per bastardo Ok, facciamo il giro da retro Forse lo riusciamo ancora a prendere Hmm Dove si è cacciato? Dove si è cacciato? È andato al piano di sopra Ha messo una Claymore Com'è fuggito questo? Oh Non so dove è andato a finire Ma va bene Per ora non aveva armi Però mi ha fregato le munizioni Ho solo 15 infatti Di munizioni di quest'arma Vabbè Controlliamo ogni porta noi Controllerò ogni stanza Guardate dove si nascondeva Si è nascosto proprio qui questo Aiuto Ok Mi prendo il suo caschetto Che è stupendo Ecco le munizioni che mi aveva fregato Le ho ritrovate Erano dentro il suo zaino Fuori mi sembra che ci sia via libera E allora proviamo a fare una corsetta Penso che questa casa Contenga forse anche una persona Che si è nascosta qui dentro Comunque Prima di andarcene Esploriamo anche questa Proprio per essere sicuri al 100% Eccolo qua uno Il fuggitivo Ma c'è qualcuno che mi sta sparando Eccolo lì sopra Ucciso Quello là si era sporto così Non mi dire che si sono già massacrati tutti Allora vado un attimo su questa torre Non ci credo Hanno lasciato un'arma Con munizioni poi Quindi l'Arestation Mike Non è stata toccata Almeno questo Questa parte Quest'arma mi piace di più Perché secondo me è un po' più forte Oh e guardate qui Quanti sono morti Quella torre Quella torre è la risposta di tutto il massacro Ci scommetto Veramente Però mi serve Perché è una torre Che Che di solito nasconde persone Anche È una torre importante Ha una buona visuale Rischio tanto Rischio tanto Ad andare qui dentro Un rischio che non vorrei correre Ma Forse devo correre Ma Forse se sto Quattro quattro lento Aspettate C'è uno lì? Eh uno morto Era solo un cadavere Oh mi sto cagando in mano Troppo paura Troppo paura Che mi spunti uno all'improvviso Oh Bene Non c'era nessuno Qui intorno di nemici Nemmeno la traccia Forse hanno troppa paura Di venire qui Perché sanno Che è un posto pericoloso Dato che ci sono io Sulla torre Qua ho un ottimo visuale Ok E allora ci muoviamo Proviamo ad andare di sotto E proviamo a raggiungerli Guarderò un'ultima volta Da questa finestra Ok La via sembra libera Corro giù per le scale Ecco qua Uuuuh Proprio adesso Che ho deciso di scendere Mi è arrivato uno qui Con una Magnum in mano Mamma mia Mi ha fatto prendere un colpo Questo Prendiamoci la sua Magnum E vediamo nello zaino Cosa aveva Ah aveva un bel po' di caricatori Forse dovremmo utilizzare La sua pistola Che è comunque buona Questa pistola Vabbè la utilizzerò Quando avrò poche munizioni Ho pure deciso Di travestirmi da lui Perché è una tuta Abbastanza scura Forse Vabbè che il nero Sul verde Non è che si mimitizza Proprio tantissimo Ma questa tuta Mi piace troppo Quindi la metterei Anche se fossi in mezzo Al deserto Che mi vedono tutti Non mi dite che qualcuno Mi ha visto No Non stanno sparando a me Stanno sparando a qualcuno Eccoli in fondo Avete visto lì sopra Sopra quell'albero Ok Proviamo a raggiungerlo Stando sempre dietro gli alberi Dobbiamo usare questi Per nasconderci un pochettino Altrimenti ci vede correre È entrato dentro quella casa Perfetto Ha la mia stessa tuta Ok ci proviamo ad avvicinare Non mi ha visto Però è su quella finestra Proviamo a raggiungerlo A piedi Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Se rimango qui dietro Forse non mi uccide Ok Lo inseguirò da dietro adesso Vabbè Proviamo ad entrare anche noi Se ci uccide Amen E se fosse salito Sopra il tetto È rischioso salire adesso Con lui che è nelle vicinanze Ah è lì Bene Il facile Perfetto Perfetto Ucciso Grandioso Per fortuna si è messo Proprio sopra questo tetto Ora abbiamo le sue armi E siamo messi stra bene Porco cane Ah così si ragiona Ora abbiamo una super arma No E ecco E mi uccide Quello là che È rimasto tipo tutto il tempo nascosto Eh beh Era rischioso andare sul tetto Comunque bene Penultimo Non è affatto male Quindi io spero che questa partita Di Arma 3 Hunger Games Vi sia piaciuta E noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao ragazzi E noi ci vediamo al prossimo episodio 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 Grazie a tutti.